E alla conferenza delle regioni rappresenta anche il governatore del Piemonte Roberto Cota. Andiamo allora a sentire un suo commento al microfono del nostro inviato Davide Cordua. Presidente Cota, insomma tutto rinviato a settembre per quanto riguarda le decisioni sulle regioni, per quanto riguarda la sanità. Beh, diciamo che la Lombardia e il Veneto sono le regioni più virtuose in assoluto. Quindi è stato fatto un evidente errore, errore di calcolo, errore voluto. Comunque si è perso tempo per questo motivo, perché l'errore è riconosciuto, è accertato, è acclarato. Per quanto mi riguarda come Presidente della regione Piemonte subisco una situazione che è la seguente. Cioè il Piemonte sarebbe quarto, quarta come regione per quanto riguarda la qualità dei servizi sanitari. Il fatto è che si è escluso automaticamente dall'individuazione come regione benchmark, si sono escluse le regioni che sono sotto piano di rientro. Noi siamo sotto piano di rientro, peraltro puntualmente rispettato, quindi siamo sotto piano di rientro non per causa nostra, naturalmente. E il piano di rientro, peraltro, è puntualmente rispettato, tant'è che è stata ritirata la diffida alla sanità piemontese. È una decisione politica secondo lei? Insomma, non è che ho proprio uno che non ci vede completamente, oppure non lo so come è stato possibile.